Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cosenza all'Unical per questo convegno, Università Arcobaleno. In mia compagnia abbiamo la professoressa, dottoressa, sessuologa, sono tanti gli epiteti che possiamo utilizzare. Antonella Palmitesta, che ha veramente deliziato delle sue definizioni che non conoscevamo, o alcuni di voi sicuramente non conoscevano, molto interessanti a livello sessuale. Perché di sesso dobbiamo parlarne, sesso non è un tabù e se ne parla poco. La domanda. No, la domanda è che se ne parla poco. E' proprio questo il problema, che quando non parliamo di un qualcosa automaticamente diventa perversione, diventa paura. E tra l'altro io spesso sorrido, perché dico banalmente, no, dimmi come fai l'amore e ti dirò chi sei. Perché oltre il sesso sul quale spesso sorridiamo e ridiamo, in realtà noi stiamo esprimendo tutta la nostra psicologia, la nostra relazione e anche il nostro vissuto familiare. Infatti quando lavoriamo sull'aspetto sessuologico, in realtà intervenendo su quell'aspetto andiamo a modificare anche quella che è la relazione che la persona ha col proprio corpo e con la persona che ama, anche fuori. Perché ogni volta che vi è una disfunzione sessuale, pensiamo a una disfunzione rettile o a un'orgasmia femminile, quel sintomo ci sta comunicando qualcosa. Evidentemente il corpo sta esprimendo qualcosa che la persona non riesce a comunicare all'uomo, alla donna o entrambi con cui è in relazione. Ancora oggi abbiamo veramente difficoltà a parlare di sesso e quando si parla di sesso si parla ad esempio soltanto di perversione o altro. Invece è una delle cose normali, assolutamente, è come dire, non parliamo di alimentazione, mentre il sesso e anche l'autoerotismo è importante, è un contatto con noi stessi. Come posso io dire alla persona con cui vado a letto quello che mi piace di me, comprendere l'eccitazione e differirla dall'orgasmo se prima io stessa non ho fatto l'amore col mio corpo? Per cui è tutto un mondo di cui dobbiamo iniziare a parlare ricordandoci che banalmente noi siamo figli e figlie di un rapporto sessuale, per cui non dobbiamo aver paura. Hai parlato nel tuo intervento di malattie sessualmente trasmissibili, perché? Perché la paura di molte donne è quella di rimanere incinta, però ci sono le malattie sessualmente trasmissibili che non riguardano solo gli uomini ma riguardano anche le donne. Sì, assolutamente. Qui bisognerebbe veramente fare tutta una formazione a quelli che sono i ginecologi, perché automaticamente si dà per scontato che quella donna sia eterosessuale. Quindi ok, prendi la pillola o usa il profilattico, ma se questa donna invece ha delle relazioni con una donna, quindi anche il fattore genitorialità trattiamolo. Come può quella donna avere un bambino con tutta quella che appunto la procreazione è medicalmente assistita, con l'ovodonazione da parte della sua compagna o non, o comunque una donazione semplicemente con quello che è l'ovulo stesso della persona. E non solo, esistono tutte le patologie anche trasmissibili tra donne. Ecco perché appunto, come accennavo prima al mio intervento, oltre ai profilattici bisognerebbe parlare del dental dam, appunto, di questa pellicola che viene messa sulle pareti vaginali in modo da avere un sesso orale protetto. Tra l'altro è difficile anche trovarlo in Italia, se lo si fa arrivare dall'estero anche un costo molto eccessivo, senza pensare che alcune donne neanche sanno cos'è. O anche lo stesso sfregamento vulva-vulva può trasmettere determinate patologie. Si pensa subito all'HV, ma anche nel rapporto tra uomini. Esistono altre situazioni, esiste la candida, il pamillomavirus anche nell'uomo, cioè spesso non se ne parla. Per cui parliamo anche di prevenzione, non soltanto nella relazione eterosessuale, ma anche omosessuale, anche lesbica, perché poi si pensa sempre che le lesbiche, quindi il rapporto tra donne è soltanto romantico e quindi non hanno il cosiddetto orgasmo anche estremo. Ma non è così, non è il genitali, i nostri genitali non fanno quello che di noi, la nostra predisposizione all'erotismo e al sesso. E poi le teorie riparative, perché diciamolo ancora oggi, sono presunti psicologi o comunque professionisti del mestiere che si vantano di poter guarire qualcosa che invece non è una malattia. Professionisti del settore direi proprio di no, finti. Purtroppo c'è molto business dietro questa cosa, ci sono stati anche determinati soldi messe da situazioni, mi dispiace dirle, ma purtroppo cristiane, cattoliche e romane, fomentando queste situazioni e anche delle ricerche che poi di scientifiche non hanno nulla per quanto riguarda appunto il riparare. Ma cosa riparo se non vi è nulla da riparare? Banalmente io sono presidente nazionale di Nudi, Nessuno Uguale, Diversi Insieme, che è l'unica realtà di psicologi e sessuologi che si occupa del benessere delle persone LGBT+, e noi abbiamo come slogan sulle nostre magliettine che mettiamo ai Pride l'omosessuale non si ripara, l'omofobo sì, perché lì veramente c'è qualcosa da riparare, una devianza e non accettare l'altro, quando in realtà l'orientamento sessuale non solo non si cura, ma nel momento in cui si tenta di cambiare l'orientamento sessuale, si è visto scientificamente che portiamo invece a fomentare determinati stati, quale l'ansia, la depressione e alcune volte spingiamo anche a situazioni estreme con la persona. Senza, o meglio, ricordando la questione che le terapie riparative riguardano soltanto gli uomini, non le donne, quindi un errore di virilizzazione, di mascolinizzazione, tutto questo scientificamente è smentito. Quindi se noi, permettimelo Riccardo, di dire, se noi siamo al bar tra professionisti e vogliamo dire bagianate, possiamo anche farlo, però al momento in cui parliamo alla gente, capiamo che abbiamo anche una competenza e un messaggio che arriva fortissimo, per cui cerchiamo di dire le cose su una base scientifica, altrimenti veramente continueremo a far danni. Pochi anni fa il ragazzo le pantaloni rosa si è ucciso, perché ancora c'è qualcuno che dice, sei malato quindi ti curo, non c'è nulla da curare, questa cosa ovviamente tengo a sottolinearlo. Perfetto, se volete ovviamente contattare la dottoressa Palmitesta, Antonella, la trovate su Facebook, lei mi pare operi su Roma, giusto? Roma, Puglia e poi sono freelance in tutta Italia, però in particolar modo Roma e Taranto. Perfetto, tra l'altro lei domani sarà un altro convegno molto importante, 8 marzo, festa della donna, però una festa della donna particolare, perché è una festa della donna dedicata a cosa? Eh sì, si parlerà del rapporto tra mente e cervello e anche di autoerotismo e come appunto anche magari inserire quel sex toys nella propria vita o nella coppia può essere quel cioccolatino in più, che se non lo mangi non succede nulla, ma se lo metti ecco delizia di più la propria vita sessuale. Perfetto, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cosenza. Grazie a tutti.